Giovedì 13 giugno, buongiorno e bentrovati con l'edizione del mattino del TGL News. L'emporio solidale di Piacenza è pronto a partire. I lavori di ristrutturazione sono infatti terminati. Grazie alla raccolta di Caritas sono già state messe da parte oltre 7 tonnellate di cibo. La via ufficiale è prevista il prossimo 18 luglio. Il progetto che come scopo a quello di aiutare persone bisognose nasce dalla collaborazione tra Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune, Caritas, Diocesana, Croce Rossa e Svep. Cambiamo argomento, noi speriamo sempre un giorno di vederla tornare da noi, ma ormai ce ne siamo fatti una ragione. Vogliamo solamente un corpo su cui poter piangere. Il marito e i figli di Emanuela Saccar vi aspettano ormai da 50 giorni notizie sulla donna di San Giorgio, cassiera in un supermercato di San Nicolò, scomparsa. Senza lasciare traccia e spunta anche un testimone che l'ha vista sporgersi dalla balaostra del ponte sul Po. I dettagli sul quotidiano Libertà in edicola. Natascia Apreli, 22 anni di ferriera e meccanico di elicotteri. Un mestiere prettamente maschile, tanto che le donne tecnico-manutentori di elicotteri in Italia si possono veramente contare sulle dita di una mano e probabilmente non arrivano a 5. Natascia Piacentina è una di quelle. Fa bene il suo lavoro dal 1 maggio, è stata infatti assunta in una ditta di asti dopo un percorso professionale in cui anche i pregiudizi hanno avuto il loro peso. Vendette casa con anessa cantina e tre fucili, una carabina e due da caccia di cui aveva sbattatamente dimenticato l'esistenza. Le tre armi vennero però ritrovate dal nuovo proprietario che le consegnò ai carabinieri. Per questi fatti avvenuti alcuni anni fa è finito sotto processo un pensionato piacentino settantenne che è stato assolto per illecita detenzione delle armi da fuoco ieri in tribunale. La difesa è riuscita infatti a dimostrare che il suo assistito neppure sapeva dell'esistenza di questi tre fucili, della provenienza delle armi fra l'altro del tutto inutilizzabili. E' stata però data una spiegazione nel secolo scorso, infatti il fratello dell'imputato del processo di ieri era missionario in Africa, tornato in Italia a Piacenza, aveva lasciato un involucro di stoffa al fratello. Al suo interno erano contenuti i tre fucili, l'involucro con le armi era stato quindi collocato in cantina in uno scaffale e lì è rimasto per oltre vent'anni fino al ritrovamento da parte dell'acquirente della casa. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15. Buona mattinata!